Periodo di raccolta firme in città a sostegno delle varie liste civiche che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative a sostegno dei vari candidati a sindaco. Ad oggi sono quattro le liste presentate presso l'ufficio comunale preposto. Una buona idea di Terenziano Di Stefano che appogge il candidato Lucio Greco. Un'altra Gela fondata dallo stesso Greco. Avanti Gela, lista creata dai diffidenti di Forza Italia. E noi con Gela, lista che fa riferimento a Enzo Cirignotti e Ennio Greco. Queste ultime due liste appoggiano il candidato della Lega Giuseppe Spata. Tanti cittadini che in questi giorni si recono presso l'aula dei gruppi consigliari per sostenere le varie liste civiche. Le liste civiche devono raccogliere per essere presentate un numero di 400 firme di sostenitori per essere poi corredate dai certificati elettorali dei sottoscrittori e presentate poi alla Segreteria Generale del Comune. Le liste vanno presentate dal 25 marzo al 3 aprile. Termine ultimo è il mezzogiorno al 3 aprile. Corredate tutta la documentazione. Le firme attualmente possono essere raccolte presso i gruppi consigliari siti nel palazzo di città dove già operano tre funzionari e altri due verranno autorizzati in serata in modo da dare maggiore respiro a queste operazioni. Quindi gli orari sono orari di apertura d'ufficio Stiamo vedendo di aprire anche nei pomeriggi di mercoledì e venerdì dove non c'è orario d'ufficio e saranno aperte. Anche il sabato mattina, da sabato ci sarà a sembrare la raccolta di firme per un paio d'ore, tre ore vedremo un poco in giornata usciranno tutte queste notizie. Non c'è un termine ultimo. Il discorso è che i partiti o le liste civiche si debbano organizzare in modo da averle il più presto possibile da venire qua all'ufficio elettorale in modo che noi facciamo i certificati elettorali di tutti i sottoscrittori. Quindi se una lista civica ha 400 dobbiamo fare un certificato comunitivo di 400 persone. Mi raccomando di non votare per due liste perché si ricorre in una sanzione penale. Qual è il termine ultimo per la lista dei consiglieri? Il termine ultimo sono le ore 12 del giorno 3 aprile. Ne ho un minuto in più, ne ho un minuto in meno.